Allora, adesso illustrerò come si stenderà il gesso acrilico con la giusta preparazione nella tela che useremo per fare il corso del fiore. Ci serviremo di una resina acrilica trasparente, del gesso acrilico e qualche pennello piatto e a ventaglio, di cui è una tela che è 30x50 cm. Con questi materiali noi andremo ad affrontare delle varie stesure di gesso acrilico che andranno a essere pronte per raccogliere il disegno del fiore per il corso e per poi iniziare a dipingere. È molto importante fare la base con il gesso acrilico e con la resina acrilica perché si dà molta stabilità al colore. Diciamo che comunque già con una tela molto preparata bene, anche comprata con la preparazione di lino, una delle più fine, è già ideale per andare avanti e dipingere bene e fare i vari passaggi. Quindi il primo passaggio che noi faremo sarà l'uso di una resina acrilica che è un prodotto trasparente, che è una specie di colla vinilica da stendere in modo molto leggero, in modo uniforme su tutta quanta la tela. Facciamo un passaggio soltanto, questa resina acrilica serve per lisciare meglio i pori della tela. Una volta asciugata, dopo passerò con due strati soltanto di gesso acrilico. Il gesso acrilico che userò è questo qua della sminche, che è un gesso tedesco, molto molto buono. E' uno di più di qualità che esistono. E questo gesso accoglie benissimo la pittura ad olio. E non è tanto assorbente come gli altri gessi. Più il gesso è di qualità, due gessi di qualità che io vi consiglio sono questi della sminche o quello della Hold Holland. Sono i migliori in assoluto per cercare di stendere il gesso, il colore poi successivamente, in modo idoneo, senza assorbimenti strani. Se sarà necessario, dopo queste due fasi, faremo anche una base di bianco ad olio per rendere la superficie ancora meno assorbente rispetto a quella del gesso acrilico, nonostante sarà poco assorbente quella del gesso. Perché comunque, essendo un gesso buono, ha la possibilità di far scivolare bene il colore. Ma se noi stendiamo dopo la fase di resina acrilica e di gesso, mettiamo anche un colore bianco ad olio, avremo più tempi lunghi di preparazione della tela. Però, con il bianco ad olio, daremo la massima lucentezza ai colori ad olio, poi. E si andrà ben dipingere. E vi spiegherò ogni passaggio cosa bisognerà fare. Illustro un attimo anche i pennelli di cui avremo bisogno, perché ho parlato soltanto della resina acrilica, del gesso, e ho fatto la foto dei pennelli poco fa. Allora, per stendere la prima superficie di resina acrilica, avremo bisogno di un pennello piatto piccolino, come questo qua, che ho preso in un brico. E stenderemo in modo vario, sopra la tela, con varie pennellate, la resina acrilica. Dopo andremo a stenderla col pennello piatto, e poi col pennello a ventaglio per lisciarla completamente. La stessa cosa faremo anche con il gesso acrilico. Useremo questi tre pennelli. Prima uno più fino, per stendere bene le pennellate. Poi uno piatto, per stendere ancora meglio. E al fine il ventaglio, per appiattire totalmente la superficie. Alla fine della sovrapposizione della resina acrilica, del gesso acrilico, e del bianco ad olio, avrete una superficie molto molto liscia. Però ogni superficie che si fa, di questi, va lasciata ad asciugare bene. E va scarta vetrata, con la carta vetrata fina, a movimenti rotatori. Proprio perché la carta vetrata toglie la porosità e l'assorbimento che danno la lucentezza della resina acrilica, del gesso e del bianco ad olio. Quindi sarà molto importante seguirmi e capire bene come preparo la tela. Perché è fondamentale per tutte le preparazioni delle tele. Quindi ci saranno tre strati. Sarà dal più magro, quello un pochino più grasso. Quando stenderò la resina acrilica, andrò a stenderla normalmente senza niente. È una resina acrilica liquida, che sarà da stendere senza acqua. La ne poggerò un pochino nella tela, e dopo che non i pennelli, cercherò di stenderla bene. Il gesso acrilico, invece, dopo ogni superficie che si dà con i pennelli, deve essere stesa molto bene prima. Quando si asciuga, va carteggiata ogni superficie, perché è molto importante per togliere la porosità. Quando si stenderà il bianco ad olio, poi, si stende una mano, una superficie, una stesura. E con quella, quando si asciuga, si può tranquillamente carteggiarla con la carta vetrata. E otterrete una superficie che è bellissima, giusta e pronta per raccogliere il disegno e la pittura ad olio. Mentre, se volete dipingere con un'altra tecnica, ora vi spiego come deve essere la preparazione del gesso. Allora, se volete dipingere ad acrilico anziché ad olio, dovete fermarvi a fare la base con la resina acrilica, e poi soltanto con il gesso acrilico, perché gesso acrilico e resina acrilica legano bene con il colore acrilico. Non bisogna stendere poi l'olio, perché altrimenti l'acrilico, se stendi sopra l'acrilico, sopra l'olio, crepa. Bisogna fare in modo che quando vuoi dipingere a tempera, ad acrilico, devi usare solo la resina acrilica e il gesso acrilico. Quando dipingi ad olio, aggiungi anche uno strato di bianco ad olio. Proprio per rendere, io me ne sono accorto, ho reso le superfici delle tele meno assorbenti così, e molto molto ben scivolose, però vanno grattate bene, perché se non vengono grattate, il colore rischia poi di scivolare, di spezzarsi, è di crepare, di cadere a terra, perché trova una superficie troppo liscia, non si asciuga e rischia di crepare. Mentre se ogni superficie è carteggiata, intanto va appiattita meglio la superficie, quella della tela, e quindi si va meglio molto a prepararla poi, e anche a dipingere. E si ha dei tempi di asciugatura del colore ad olio molto più lunghi. Un'altra cosa molto importante, la tela, quando si stende la resina acrilica e il gesso acrilico, va sempre fatta in orizzontale sulla tavola, mai in verticale, perché se fate in verticale rischiate che il gesso acrilico e la resina acrilica vi scivola troppo, e quindi non si può fare altrimenti. Mentre sulla superficie piatta, orizzontale, potete stenderla e si adagia molto più normalmente. Così quando stendete con i pennelli, la superficie rimane molto più omogenea. Così quando stendete con i pennelli, la superficie rimane molto più omogenea.